Il silenzio dei luoghi abbandonati si miscela all'esplosività della musica. Ci sarà tempo fino a domenica per visitare la mostra intitolata Suono e Silenzio di Tommaso Fucile, 25enne Valceresino, alessita nella nuova sala multiuso del comune di Arcisate. Una ventina di scatti che immortalano la vivacità e la carica tipica dei concerti musicali e la tranquillità quasi angosciante dei luoghi vuoti dell'archeologia industriale. Un esempio l'ex conceria di Indunolona. Questo perché? Per rappresentare due tipi diversi di sensazioni che provi andando ai concerti, abbastanza chiassosi, le sonorità ti fanno sentire in una certa maniera, mentre nei luoghi dell'archeologia industriale non è presente un suono. All'inaugurazione andata in scena il weekend scorso è stato anche presentato il cortometraggio capitano Vara un giorno da supereroe, in cui Tommaso ha curato la fotografia. Il cinema è con un'altra passione di fucile. Le due cose sono correlate, comunque la fotografia, il linguaggio visivo è anche molto presente nel cinema. Senza la fotografia, la giusta posizione delle luci, il tipo di scena, le sensazioni che vengono date grazie alle luci, le inquadrature, le immagini, non potrebbero dare buoni risultati. Comunque, chiaramente, anche insieme a un buon uso del suono, della sceneggiatura, una buona sceneggiatura indubbiamente, comunque è una cosa che contribuisce. Siccome sono ormai nell'ambito della fotografia da un po', mi sono deciso di dedicarmi anche al cinema, che era anche questa una mia vecchia passione. L'ho concretizzata grazie ai ragazzi di Taino, che hanno deciso di mettere su una piccola truppe per realizzare questo cortometraggio. Mi ha dato la possibilità di mettere a frutto le mie doti di direttore della fotografia. Grazie a tutti.